Ho letto con soddisfazione il titolo di questo convegno a cui sono stato invitato perché ritrovo messo insieme il concetto di integrazione sociale con quello della pianificazione urbana e questo mi ricorda un percorso compiuto insieme. Non mi sorprende perché le persone che hanno svolto questa attività con loro ho lavorato per molti anni su un percorso di questo tipo, di confronto e di collaborazione fra dimensione sociale e dimensione urbanistica. Le stazioni sono un caso assolutamente significativo, emblematico della necessità, possibilità di combinare azioni di questa natura insieme. Provo a svolgere il compito su due temi principali, uno il ruolo delle stazioni nel contesto urbano e l'altro gli strumenti che abbiamo in mano, che la pianificazione urbanistica ha costruito per aiutare a mettere insieme le diverse parti che compongono le diverse funzioni, elementi strutturali che compongono un ambiente urbano. Il ruolo delle città nella dimensione urbana complessiva. Noi siamo in una fase di forte metropolizzazione, città diffusa e quindi, la faccio molto breve, ma è evidente che il problema dell'accessibilità su territori urbani bassi è diventato uno delle componenti fondamentali che orienta l'urbanistica. Potremmo dire che la città si riconforma sulla base delle reti e dei nodi di accesso alle reti piuttosto che il contrario. Ormai i costi di costruzione delle reti sono talmente elevati che è la città che deve adeguarsi alla loro forma e alla loro struttura piuttosto che il contrario. Quindi dobbiamo partire dalle reti esistenti e dal fatto che queste reti contengono dei punti di addensamento, di accessibilità estremamente elevati. E sono i punti attorno ai quali la città si deve riorganizzare. La prima considerazione che mi viene da fare è che le stazioni, è vero che hanno un compito funzionalmente ben definito, ben delimitato, però sempre di più cominciano a svolgere dei ruoli complementari proprio perché sono i punti di riferimento, i cardini fondamentali dell'assetto delle nuove aree metropolitane. Lo si vede anche dal punto di vista dei processi di valorizzazione immobiliare. Le stazioni sono i luoghi attorno alle stazioni, sono i punti attorno a cui si concentra il massimo dell'interesse all'investimento, al rafforzamento delle componenti immobiliari della città. Almeno dovrebbe essere così. Quando non è così è perché si producono dei fenomeni di malfunzionamento, di cattiva gestione urbana che poi pagheremo col tempo. Allora, la prima considerazione che faccio è che la stazione va restituita quindi a questi luoghi urbani. Mentre prima nasceva come punto di accesso alla rete ma non determinava le condizioni di funzionamento di organizzazione dell'organismo urbano, oggi questo deve avvenire in maniera sempre più rilevante e sempre più stretta. In parte è quello che sta avvenendo, molte stazioni stanno acquisendo funzioni di tipo urbano nel proprio interno e sta avvenendo anche che le stazioni ragionano su come aprirsi, su come garantire la propria accessibilità intervenendo sui contesti entro i quali sono collocati. Questo che c'entra con il ragionamento, con il tema di questo convegno c'entra perché la ricerca fatta dagli app center, dall'ONS sottolinea in maniera molto chiara il legame che esiste tra disagio sociale e contesto urbano, cioè tra necessità di superare le condizioni di disagio sociale restituendo il problema alla comunità dentro la quale questo disagio sociale si forma. Mentre le stazioni fino a questo punto sono state parzialmente una specie di segregazione del disagio sociale dentro spazi più delimitati, una sottrazione di un disagio prodotto dalla comunità urbana dentro luoghi impropri ma che comunque erano in grado di separare il disagio dalla comunità stessa. Ecco, non dobbiamo rimettere insieme queste cose. Come vedete, quindi stiamo parlando di ricomporre un rapporto fra un'infrastruttura destinata al problema dell'accessibilità e la stazione, il punto nodale fondamentale, e un contesto urbano dentro il quale questa stazione è collocata, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista sociale. Cioè questa osmosi tra stazione e contesto urbano è il primo grande problema che ci troviamo di fronte. Ripeto, in parte è stato già affrontato, in parte molte funzioni urbane sono entrate dentro la stazione, ma rimane ancora un processo timido che non ha portato a compimento le sue potenzialità. E soprattutto dal punto di vista sociale forse è la debolezza maggiore, perché fare entrare la città dentro le stazioni e far aprire le stazioni alla città significa mettere attorno allo stesso tavolo i soggetti che sono responsabili della gestione di queste due componenti fondamentali del contesto urbano. Cioè è necessario che il problema del disagio sociale sia uno dei pezzi fondamentali attorno a cui gli attori che devono cooperare per rimodellare la struttura delle stazioni e per aprire le stazioni ai contesti urbani, questi attori devono trovare nel loro tavolo di lavoro il problema del disagio sociale come una componente fondamentale. e quindi chi è responsabile nelle istituzioni di trattare questo problema o come in altri casi l'apporto, la collaborazione del terzo settore, questi soggetti devono partecipare al tavolo nel quale le istituzioni locali, la città che si occupa di riorganizzazione dello spazio urbano e le stazioni che si occupano di valorizzazione delle proprie strutture immobiliari lavorano insieme. I contesti urbani sono dei contesti ovviamente variabili, rimodificabili anche in funzione delle attività che intorno a questo tavolo si possono produrre. Come si può costruire questa forma di collaborazione, di relazione più stretta tra contesto e stazioni? Nella nostra strumentazione urbanistica si è affermata in Italia da una ventina d'anni, in Europa un pochino di più, forse da 30-35 anni, lo strumento del progetto urbano. Il progetto urbano rompe la logica della vecchia pianificazione urbanistica fortemente previsiva, cioè in grado di immaginare la conformazione della città in un tempo indefinito futuro e in forme anche di gestione del suolo, dell'uso del suolo di tipo settoriale, cioè di frazionamento del suolo per componenti funzionali alle diverse attività che vanno svolte nella città. Questo schema un po' rigido di tipo funzionale e attemporale è stato spezzato sia pur parzialmente, abbiamo esperienze innovative molto significative in alcuni contesti, meno in altri, è stato spezzato dall'introduzione di strumenti di carattere più strategico, il piano strategico stesso, quello che ormai si sta affermando in molti enti locali, il progetto urbano che è una sorta di strategia applicata a un contesto locale, è una dimensione più ridotta. In entrambi i casi mi pare che il caso del disagio sociale da trattare all'interno di una ridefinizione del ruolo delle stazioni nel contesto urbano mi sembra siano entrambi fondamentali. Il piano strategico raramente comprende azioni di tipo immateriale, in genere è costruito dagli urbanisti, è pensato per mettere al centro delle prospettive di sviluppo della città alcune funzioni, alcuni luoghi fisici importanti delle aree metropolitane, raramente prevede la possibilità di affrontare in maniera strutturale, a medio e lungo termine, i problemi del disagio. Forse perché le risorse principali che le città generano sono quelle legate al patrimonio immobiliare, al patrimonio fondiare e al patrimonio immobiliare. Perché non cominciare a pensare che queste risorse devono tornare all'insieme globale dei problemi che i territori devono affrontare. E continuiamo a separare politiche urbanistiche e politiche sociali, col risultato che le politiche urbanistiche sembrano doversi accollare solo al problema dell'organizzazione fisica della città, gli standard urbanistici, garantire gli spazi necessari ad assolvere le funzioni pubbliche che la città deve avere. Ma questi spazi poi vanno riempiti di politiche, vanno riempiti di attività, di funzioni che devono durare nel tempo e che devono essere calibrate man mano che si sviluppano, ma devono a loro volta condizionare la forma, l'organizzazione, la gestione degli spazi che vengono previsti per loro. Allora come è possibile immaginare in una città complessa che noi continuiamo a tenere separati spazi funzionali dalle politiche e dalle azioni che devono svolgersi al loro interno. Ecco, quindi un piano strategico che ragiona sulla riorganizzazione di grandi spazi metropolitani ed è tipica la rete del trasporto su ferro nel condizionare le prospettive di riorganizzazione di spazi metropolitani, come possiamo pensare che un piano strategico che si occupa di questo non associa in maniera stretta a questo i problemi di carattere sociale che in questi luoghi in maniera particolare si concentrano e che sono invece profondamente legati ai contesti che li generano. Allora rimettere insieme queste due cose potrebbe consentire di migliorare la capacità di progettazione degli spazi urbani, delle stazioni e dei contesti dove le stazioni si collocano e sostenere anche finanziariamente le politiche che dentro questi spazi urbani si devono svolgere. Allora, il progetto urbano perché diventa lo strumento fondamentale? Ma perché il progetto urbano si compone di una serie di passi, di azioni fondamentali che sono quelle che aiuterebbero a rimettere insieme questi due pezzi delle politiche, sicuramente è un progetto di natura partenariale e quindi prevede partecipazione pubblica e private, è un progetto che ha per sua natura quello dell'integrazione, è vero che da parte degli urbanisti è immaginato come integrazione degli spazi e delle funzioni, ma potrebbe essere immaginato come integrazione delle politiche, quindi un vero e proprio progetto di sviluppo locale, dovrebbe accompagnarsi ed è facile che in un processo di concertazione, di condivisione delle scelte come quello messo in campo ad un progetto urbano si possano associare anche attori e soggetti istituzionali che hanno competenze non strettamente legate alla gestione dello spazio. C'è il problema della partecipazione, nei casi ovviamente più efficienti il progetto urbano prevede un coinvolgimento della popolazione, quale occasione migliore per entrare in per rimettere in gioco le energie sociali, le culture, le capacità operative non solo del terzo settore, ma anche più genericamente della comunità che si deve far carico ed essere consapevole dei problemi che deve affrontare e quindi anche di quel disagio sociale che normalmente confina all'interno delle stazioni. E poi c'è il problema finale della valorizzazione immobiliare, la quota come dicevo per il piano strategico, la rivalorizzazione dei suoi degli immobili delle stazioni produce valori enormi, inconfrontabili con quelli necessari ad attivare politiche sociali, perché non cominciare a pensare che negli standard previsti, cioè nelle dotazioni che questi progetti urbani devono garantire alle comunità locali, non venga anche prevista un'azione di sossegno di aiuto, oltre che con le forme della partecipazione, del coinvolgimento e del paternato anche in forme economiche di chi si deve occupare del disagio sociale. Ma io direi, tutto qua passo la parola a loro che hanno forse competenze molto più mirate su questo tema. Grazie. Grazie, grazie all'architetto.